Ragazzi, avete difficoltà ad arrivare in divisione 1 o non ci siete mai arrivati anche se avete una squadra di ottimo livello? Per migliorare non servono gli epici, non servono i big time, servono le conoscenze, servono le abilità. Da oggi potete contattarmi per ricevere delle lezioni private di football personalizzate, dove vi insegnerò sia le nozioni base che quelle più avanzate, dove vi farò apprendere tutti i comandi nascosti di questo gioco, le funzioni sconosciute alla maggior parte dei player di medio livello e le skills che mi vedete fare nel mio road to glory. Tutto ciò vi permetterà di arrivare ad un buon livello e vi eviterà tante arrabbiature dovute alle delusioni che può dare questo gioco. Trovate tutti i social per contattarmi in descrizione, vi aspetto numerosi ragazzi. Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Simo Play, oggi siamo di nuovo insieme per parlare di EA Sport PC24. Anche quest'anno, come tutti gli anni, sono qui per mostrarvi il gameplay ufficiale proveniente dalla beta ufficiale del videogioco prodotto appunto dall'EA. Voglio premettere, come faccio tutti gli anni, che non sono stato io a diffondere queste immagini, assolutamente ragazzi. Le immagini sono pubbliche e sono già online. Io le sto semplicemente riportando per far vedere questo tipo di immagini appunto alla community italiana. Prima di andare avanti ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mi raccomando questa parte è fondamentale, quindi non passate oltre senza aver prima cliccato il tastino iscriviti ed aver ovviamente, come già detto, attivato la campanella. In questo modo sarete sicuri di non perdere tutti i prossimi video su questo titolo calcistico e non solo, vi mostrerò anche altre immagini provenienti dalla beta, quindi mi raccomando, seguite. E ovviamente non dimenticate nemmeno di lasciare un bel like, perché più like ci saranno, più video di questo tipo porterò. Quindi dipende tutto da voi, mi raccomando, spolliciate. Vi chiedo anche di seguirmi sul mio profilo TikTok, il link ovviamente lo trovate in descrizione. Su questo social pubblico tantissimi aggiornamenti, anche su EAFIC24, quindi se volete più di me, mi raccomando, fatelo. E visto che ci siete, seguite anche il mio collaboratore AleBegni86, anche in questo caso trovate il link in descrizione, perché davvero se lo merita. Ok ragazzi, non perdiamo altro tempo. Questa volta, a differenza degli anni passati, visto che siamo anche in anticipo rispetto agli anni passati, se mi seguite lo sapete, io tutti gli anni mostro sempre immagini della beta, ragazzi, siamo in anticipo e quindi il materiale è di meno. Sono riuscito a trovare diverse cose, ragazzi, che sicuro provengono dalla beta, perché c'è anche il bollino della beta, eccetera, adesso vi farò vedere. Però, ragazzi, è molto meno rispetto agli altri anni. Prossimamente, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ci sarà più materiale e chiaramente andrò a riportarvi anche partite intere, proveniente dalla beta, come faccio sempre, tutti gli anni. Per ora accontentiamoci di questo. Ragazzi, chiaramente io lascio anche pubblico il nome di chi ha messo per primo questi video su tweet, perché giustamente non sono stato io ed è bene sottolinearlo. Allora, vado un attimo a togliere l'audio, non vorrei avere problemi di copyright. E questo è il primo filmato, ragazzi, proveniente dalla beta di EA Sports Fit C24. Gioco, come tutti gli anni, più rallentato, rallentato, ragazzi, comunque. Però, voglio dire, molto molto simile. Poi, chiaramente, come succede quasi tutti gli anni, non illudiamoci, perché tanto lo velocizzeranno alla prima patch. Però, per adesso, come tutte le volte, è più lento, ragazzi. Allora, poi qui abbiamo un'immagine, delle immagini, proveniente sempre dalla beta del gioco, che fanno vedere in maniera molto tremolante, scusatemi, ma ancora sono immagini registrate col cellulare. Vedi, c'è stata una presentazione, vedete che ci sono quelli delle EA, che ho scritto EA Sport, qui, quindi, è vero questo fatto. E queste sono alcune animazioni dei calci di rigore. Poteva stare fermo col cellulare, ma probabilmente chi ha registrato questi video stava cercando di non farsi sgamare, di non farsi vedere dagli addetti che stava registrando, ovviamente. Ho fatto una cosa molto di sfuggita. Poi, andiamo a vedere... Quest'altra immagine. Sempre off-screen, ragazzi. Sempre proveniente dalla beta. Questa è sempre una partita... Una partita... Uno contro uno. Player contro player. Credo che non sia online. È fatta dal vivo, ragazzi. Perché è stata tipo una presentazione dove hanno fatto anche provare il gioco. Cioè, non sono immagini nemmeno che provengono dai beta tester, queste. Qualcuno che è andato e col cellulare ha registrato. Esultanza di Halland. Se ci sono alcune maglie che non sono aggiornate, è normale perché le aggiornano solo, diciamo, all'uscita del gioco finale. Però vi assicuro che il gioco è quello. E anche qui, vedete, ragazzi, è molto sfocato. Però, in questa foto, dove ci sono sempre gli stessi tubi di metallo che avete visto per contorno nei video precedenti, in questa immagine si vede chiaramente il cartellino dove si può leggere, anche se in maniera molto sfocata, pre-beta, perché questa addirittura non è una beta, ragazzi. La beta è quella che daranno ai beta tester, tra un po', tra pochissime, usciranno le varie immagini, come tutti gli anni. Però questa è una pre-beta. È molto sfocato, ragazzi, ma vi assicuro che in questo cartellino bianco c'è scritto pre-beta. Quindi abbiamo la conferma che le immagini effettivamente sono reali. Questo, invece, è il menu di EA Sport PC. Ci sono, come potete vedere, alcune immagini provenienti dai vari menu. Questa è per scegliere l'esultanza, ovviamente. E, ragazzi, queste sono tutte le immagini che sono riuscito a trovare oggi. Meglio di niente, dico io, come già detto, prossimamente vi posterò altro, perché uscirà, questa è una pre-beta, uscirà la vera e propria beta, daranno in mano questo prodotto, chiaramente, il beta tester, e, ovviamente, saranno riccate i vari immagini, come succede tutti gli anni. E io ve le riporterò. Quindi, mi raccomando, seguite questo canale, se già non lo fate. E, ragazzi, io direi che per questo video può bastare così. Fatemi sapere nei commenti che ne pensate di queste poche immagini provenienti dalla beta, anzi, la pre-beta di EA Sports Fit C24. Io, personalmente, credo che sia più o meno, più o meno, lo stesso identico prodotto degli altri anni, solo con qualche miglioramento. Vabbè, quelli ci sono sempre, però, più o meno, la base è quella. Quindi, non ci sono state grandi novità o grandi stravolgimenti a livello di gameplay, secondo me. Abbiamo visto ancora poco, questo è vero, quindi giudicheremo in maniera definitiva più in là. Io vi ringrazio per essere stati miei compagniani, ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio e un saluto dal vostro SimoPlay. Bella, ragazzi!